Stai sciso sull'aglione, stai felici i cocktail Abbiamo preparato un daechiri Abbiamo fatto un daechiri papa e lingue cocktail della coctelleria cubana Il cocktail lo abbiamo composto noi come l'avessimo fatto nello chef Questo qua si chiama tucano è fatto apposta per preparare, contiene 4 litri è fatto apposta per preparare le nostre preparazioni e per semplificarlo nella versata perché vedete il becco entra giusto nella macchina Quel tasterino è molto semplice da usare uno accende e spegne la rotazione della macchina e l'altro ci da la densità del corpo Ciao Francesco, qual è la parte del tuo corso che più stimola i ragazzi? Indubbiamente la parte pratica è quella da cui i ragazzi sono più interessati, sono più affascinati anche se è noto con grande piacere e che poi è una cosa che piace anche a me la parte storica, la parte relativa allo storytelling Come vi chiamate? Gennaro Rita Qual è la parte del corso che più vi ha interessato? L'aiuto di queste macchine che ci portano a velocità nel nostro lavoro Molto approfondito rispetto a ciò che ci insegnano a scuola Beh, io direi le macchine perché sono molto pratiche e facilitano il lavoro Sono d'accordo con Gennaro perché ci aiuteranno in questo percorso a sviluppare cocktail che faremo Gin, limone e succo di ananas Grazie Alexander A fare panna, rum e liquore, che liquore potrei mettere? Re di un inizio! Grazie